Oggi noi dovevamo vincere per confermarci e rimanere attaccati al sesto posto e possibilmente potevamo scalare ancora una posizione, però l'obiettivo era quello di giocarci il playoff nella partita secca in casa. Quest'anno comunque quando analizzi tutto il campionato sicuramente abbiamo lasciato dei punti per strada che c'è un po' di rammarico sicuramente visto l'andasso del campionato, però non dimentichiamoci che ci sono squadre che avevano più disponibilità di noi e quindi infatti quelle lì stanno tutte sopra di noi. A parte il Venezia che è la sorpresa, che ogni anno c'è una sorpresa nel campionato, quindi noi potevamo scalare qualche posizione in rammarico e che abbiamo buttato via qualche punto che ci poteva permettere di giocarci fino alla fine la promozione diretta. I playoff sono penso le gare che tutti i giocatori vorrebbero giocare, ti giochi una partita dove sei consapevole di poter lottare per qualcosa di importante che molti ragazzi non l'hanno mai fatta, quindi questo è un percorso che giocare per la Serie A cambia le carriere di tutti, del club, dei giocatori, dell'allenatore di tutti, anche di voi. Bari ha dimostrato penso di essere vivo già da un bel po' a questa parte, quindi siamo un gruppo che è cresciuto tantissimo verso il finale di stagione, un gruppo unito che si vede nelle piccole cose, che è un gruppo che rema tutti dalla stessa parte, che è ambizioso. Sappiamo che è difficile, però ci siamo e vogliamo dire, mi fa piacere, sono le cose che comunque alla mia età, emozionarti così ancora vuol dire comunque qualcosa di importante. Fai, stai facendo e quindi è molto bello, è una grandissima soddisfazione, penso che siano le soddisfazioni più belle che rimarranno nel cuore e mi fa enormemente piacere ricevere attestati, però sappiamo che oggi è passato, la mettiamo da parte e già sabato abbiamo una partita fondamentale. È una squadra pericolosissima, giocano insieme da tantissimo tempo, hanno una fisionomia di gioco importante, giustamente non hanno l'assillo, una piazza come Cittadella, però sono lì e se sono lì sono lì per merito e vorranno giocarsela fino alla fine. Vincendo 11 partite fuori casa vuol dire che hanno delle qualità importanti. Grazie.